allora stiamo facendo questa storia io Belen con tutti i ragazzi dietro anche Daniele e siamo molto seri oggi e sono vestiti esatto e da oggi in poi basta tutta l'Italia è molto triste perché è l'ultimo giorno di Belen ma tornerà presto a trovarci a 105 ciao tatone io sono in diretto stai controllando? apro il microfono amici vado ho rotto un po' il cazzo col telefono oggi eh guarda anche le guai come contenta guarda guarda chissà con chi starà scrivendo Diletta con chi scrivi? lo sappiamo? io lo so Diletta c'è un nuovo passo passi mamma ora perché stai così lontana che tu già finis sette ore nel passato di ogni mio giorno pa 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 stringimi ancora come quella vediamo com'è più veloce più veloce a me piace di più ragazzi 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 ragazzi